Buonasera a tutti, bentornati su Cartellino Rosa Show anche questa settimana. Abbiamo visto il nostro telegiornale di Milano News dal vivo, tornerà anche dopo la nostra trasmissione. Ma adesso è ora di parlare di calcio femminile. Questo weekend non si è giocata la Serie A e la Serie B a causa della pausa nazionale, però si è giocata la Serie C e infatti è inerente anche l'ospite di questa sera, ovvero Rebecca Arosio, giocatrice centrocampista del Realmeda. La vediamo subito inquadrata adesso così la salutiamo per bene. Ciao Rebecca, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Poi vedremo anche come è andato proprio il Realmeda in questo weekend. Purtroppo è arrivata una sconfitta, poi ne parleremo meglio, ma prima direi di andare direttamente dalla nostra nazionale che è stato un po' il motivo dell'interruzione del campionato di Serie A e di Serie B. Infatti si è giocato venerdì scorso il match contro la Croazia per la qualificazione ai mondiali. Vediamo qua, grazie alla nostra grafica, che gli azzurri hanno conquistato una vittoria 3-0 sulla Croazia, grazie a Cernoia, Girelli e Pirone. Vediamo anche la classifica aggiornata dopo la vittoria della squadra di Milena Bertolini con Italia e Svizzera ancora appaiate a 9 punti. Ne parliamo spesso, la differenza reti probabilmente farà la differenza per chi si qualificherà per prima. E vediamo anche il prossimo appuntamento, perché l'Italia affronterà questo martedì domani alle 17.30 in diretta su Ray 2 la Lituania per confermare le ottime prestazioni. Io vengo da te adesso, Rebecca, perché le giocatrici nazionali ormai le conosciamo benissimo, soprattutto dopo i mondiali dove ci hanno fatto sognare. Volevo chiederti intanto come è nata invece la tua passione per il calcio, se magari hai avuto qualche difficoltà all'inizio per coltivarla. Allora, io ho iniziato a giocare grazie a mio fratello, perché era piccolo, non voleva entrare in campo da solo, allora ho detto dai vengo anch'io e quindi niente, ho iniziato all'oratorio del mio paese e poi ho continuato questa passione. E tra l'altro ho visto che tu giochi da tutta la vita a Realmeda, mi racconti un po' il rapporto che hai a questo punto con i colori di questa società. Sì, sono entrata subito nel settore giovanile del Meda, appena con i maschi non ho più potuto giocare. Niente, mi ha accolto praticamente una seconda famiglia, cioè per me è una seconda famiglia del Meda, sono davvero cresciuta lì dall'inizio, da quando avevo 12 anni praticamente. Ho giocato nelle giovanissime, poi sono subito in prima squadra a 15 anni e poi niente, ho vissuto tutto il percorso calcistico del Meda, dalla serie B alla retrocessione in serie C. Speriamo che non ritorno in serie B. Infatti poi ne parleremo un po' meglio, ma andiamo a vedere anche la serie A un attimo nel dettaglio. Non si è giocata, è vero, però andiamo a vedere un attimo a che punto eravamo con la programmazione della settima giornata della massima categoria italiana di calcio femminile, perché sono match davvero molto interessanti. si apre con Empoli-Lazio, match per la lotta salvezza, come lo è Pomigliano-Verona, ma la grande sfida della giornata è Inter-Juventus, mentre invece il Milan giocherà sabato alle 12.30 contro la Fiorentina. La Roma ospiterà il Sassuolo, mentre il Napoli femminile affronterà la Sampdoria. Vediamo anche un po' più nello specifico gli appuntamenti delle nostre squadre meneghine, con l'Inter che ospiterà la Juventus, campionessa d'Italia, il sabato 30 ottobre alle 15.30, dopo aver battuto comunque la Roma nel recupero della quarta giornata. Un match importantissimo per le Nerazzurre, mentre il Milan volerà a Firenze, ecco qui contro la Viola, domenica 31 ottobre alle 12.30, dove dovrà assolutamente cercare di fare il risultato se vuole ancora sognare e rimanere dietro alle grandi squadre, che adesso andiamo proprio a vedere, perché vediamo un po' la classifica dove ci siamo lasciati. Ci sono Sassuolo e Juventus a 18, poi Milan a 13 e Inter a 12, quindi meneghine che quest'anno sono un po' a inseguire per almeno centrare il secondo posto in Champions. Vengo da te, Rebecca, torno da te, per chiederti un po' se segui la Serie A femminile e se magari è una squadra del cuore a cui sei più affezionata e legata. Sì, dai, seguo abbastanza il calcio femminile e tifo Milan. Quindi rosso-nera. Quindi seguo le partite. Tra l'altro weekend per Milan, comunque almeno nel maschile che ha giocato positiva, è arrivata alla vittoria col Bologna, soffertissima. Ma parlando sempre di grandi campionesse che ci sono in Serie A, voglio chiederti se magari tu hai qualche giocatrice a cui prendi un po' di ispirazione, magari non per forza della Serie A, ma anche una tua compagna di squadra, magari con più esperienza, da cui cerchi di rubare sempre qualcosina. Allora, in realtà Manuela Giuliani è sempre stata una giocatrice che mi ha sempre ispirato molto, mi piace come gioca e la seguo, la seguo molto. Anche adesso che non gioco più nel Milan, gioco alla Roma. La seguo, sì. Mentre una tua compagna, una tua ex compagna da cui sempre hai cercato di ispirarti? Beh, diciamo che il nostro ex capitano, Fabrizia Fusi è sempre stato una fonte di ispirazione all'interno della storia. Quindi diciamo che lei è la prima persona che mi viene in mente. Io direi che a questo punto passiamo subito a vedere anche la Serie B dove ci eravamo lasciati, così poi arriviamo anche velocemente alla tua categoria, perché anche la Serie B non si è risputato questo weekend, dovevano esserci due recuperi e alla fine sono stati ulteriormente rinviati. Quindi vediamo un po' il programma della sesta giornata di domenica 31 ottobre dove la Pink Barri ospiterà il Tavagnacco, il Brescia e il San Marino con una gara molto importante, come lo è poi come Chievo-Verona. Il Corte Franco ospiterà invece il Cittadella, mentre il Palermo è il Cesena. E la nostra cara Processo invece volerà nella capitale per affrontare la Roma calcio femminile, mentre la Zasta di Torres se la vedrà con Ravenna. Vediamo uno specifico, proprio l'appuntamento della Processo, che andrà a giocare domenica 31 ottobre alle 14.30 contro la Roma per una gara importantissima in chiave salvezza. Lo vediamo proprio poi dalla classifica, dove in questo momento la Processo ha solo un punto e deve ancora recuperare un po' strada se vuole conquistarla, questa salvezza. Prima Rebecca parlavamo proprio di Serie B, ne avevo parlato anche con la tua compagna e capitano Laura Roma la scorsa settimana. La Serie B è un po' il sogno in questo momento del Reameda. È il vostro obiettivo primario in questa stagione, raggiungerla? Diciamo che sì, ci speriamo, ma è tosta perché troviamo delle avversarie molto difficili da battere, come il Pavia, il Pinerolo, che hanno creato proprio delle squadre per salire in Serie B. Noi ce la metteremo tutta, daremo fastidio come sempre e cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Secondo te quale può essere la forza della squadra per poter magari raggiungere comunque un obiettivo così importante? Secondo me la nostra forza è il gruppo, perché alla fine siamo sempre le stesse ragazze che giocano insieme da una vita e si conoscono da tanto tempo. Dobbiamo lavorare forse su questo fattore e far sì che sia la nostra forza per vincere ogni partita e affrontare al meglio tutto quello che ci capiterà. Senti, di solito quando faccio questa domanda voi calciatrici mi spiegate sempre il gruppo. È una risposta molto quotata tra voi giocatrici. Posso chiederti un po' il perché il gruppo è così importante sembrerebbe soprattutto nel calcio femminile per raggiungere poi obiettivi importanti? È una bella domanda. Non lo so, forse perché noi donne ci leghiamo molto facilmente alle persone e lavoriamo più sul gruppo che singolarmente. Abbiamo più obiettivi comuni rispetto a obiettivi singoli quindi tutto qui. A questo punto vi direi di andare a vedere il campionato di Serie C perché l'abbiamo già citato più di una volta quindi andiamo a vedere subito i risultati della terza giornata del Girone A che ci interessa a noi particolarmente perché è dove gioca poi il Real Meda che purtroppo arriva da una sconfitta per 3-0 con la Sorbiatese che è una delle grandi squadre che punta al successo. Vediamo anche gli altri risultati col Pinerolo che ha battuto 4-1 il Caprera vittoria per 3-0 del Pavia sullo Spezia l'Arezzo vince 4-1 sulla Pistoiese nel primo derby di giornata toscano mentre il Girone pareggia 0-0 a reti bianche col Fiamma Monza poker dell'Orobica 4-0 sulla sorpresa evrea la Ternana batte il Perugia 3-1 e nell'altro derby toscano Ponte Dere e Lucchese 0-0 vediamo anche la classifica dopo 3 giornate con il Pinerolo e il Pavia le uniche due squadre a punteggio pieno insegue l'Arezzo a 7 che aveva pareggiato con la Sorbiatese la prima giornata poi appunto il nostro Realmeda a pari punti con Spezia e Ivrea a 6 mentre Chiufanalini di coda Caprera e Perugia con anche la Pistoiese a 0 punti vengo da te Rebecca per chiederti un po' come è andata con la Sorbiatese vediamo appunto questa sconfitta cosa è mancato per riuscire magari a conquistare almeno un punto per la classifica non siamo entrate con la testa giusta in campo è stata una partita proprio cioè a senso chiusa abbiamo avuto tre occasioni che potevamo sfruttare meglio per riaprire la partita ma è stato bravo il portiere siamo state sfortunate noi e non è andata questa giornata non eravamo con la testa giusta non c'è altro da dire capitano giornate noi questa era proprio una giornata no mentre invece nelle prime due giornate comunque la squadra era andata molto bene ci racconti proprio questo inizio di campionato compresa comunque la Coppa Italia di Serie C dove già avete affrontato comunque squadre di livello con Orobica Pavia e Fiamma Monza come ti è sembrato questo prestagione? Allora sì sono positive in realtà perché abbiamo iniziato tranne la prima partita col Pavia dove abbiamo preso subito una batosta però siamo 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 cresciute dopo quella sconfitta abbiamo capito dove dovevamo lavorare ci stiamo ancora lavorando adesso è arrivato un altro risultato negativo ma ci aiuterà solo a fare a fare meglio e e migliorare ancora di più allora vediamo anche il programma della prossima giornata della quarta così andiamo anche a vedere chi affronterete la domenica prossima perché il Realmeda andrà a giocare un'altra partita molto impegnativa dopo quella con la Solbiatese infatti dovrete affrontare lo Spezia in trasferta in Liguria tra l'altro che arriva anche lei da una sconfitta dopo che aveva vinto le prime giornate quindi avete fatto un percorso appaiato fin qui e ora dovrete affrontarla poi vediamo anche le altre gare Solbiatese-Pinerolo altro big match di giornata Capriera-Ternana Fiamma-Monza Ivrea Lucchese-Genua il Pavia che ospiterà l'Arezzo quindi altra gara molto importante da seguire Perugia-Orobica e Pistogliese-Pontedera l'ennesimo derby toscano di questo girone a concludere un po' la quarta giornata torno da te Rebecca proprio per commentare questo Spezia-Realmeda lo Spezia era partito bene ha segnato poco subito poco contro il Pavia anche lui ha avuto una debacle adesso c'è una gara importantissima per entrambe le squadre che entrambe vorrete vincere immagino Assolutamente sì e saremo ancora più motivati dopo questa sconfitta e vogliamo portarci a casa il risultato per tenere aggrappate ai primi posti della classifica Tanto lo Spezia è una squadra che comunque conosci bene perché l'ha affrontata anche gli scorsi anni però ha cambiato molto quest'anno sarete anche giocatrici straniere svedesi quindi hanno fatto un mercato importante voi invece siete molto più italiana come squadra o sbaglio? Sì sì assolutamente abbiamo tante ragazze che arrivano dal settore giovanile dove sono cresciute lì e sono sempre più o meno le stesse le stesse ragazze Poi tu di settore giovanile guardando un po' magari alle bambine che iniziano adesso a giocare a calcio e quindi saranno magari le calciatrici proprio del Realmeda magari del futuro come hai fatto tu tutto il percorso di crescita cosa diresti in questo momento magari una bambina che si approccia per la prima volta al mondo del pallone cosa gli consiglieresti? Di appassionarsi a questo sport di viverlo totalmente senza pensare ai giudizi delle persone perché c'è sempre un po' di di pregiudizi sul calcio femminile di viverlo serenamente di crederci fino alla fine di lottare per quello che vuoi e lavorare lavorare e lavorare se vuoi ottenere risultati Sicuramente adesso questo consiglio poi lo daremo a tutte le bambine del Realmeda adesso gli manderemo la clip così potranno farlo vedere al settore giovanile della tua squadra lasciando un attimo di spalle la Serie C e dire che andiamo a vedere anche la nostra cara eccellenza femminile Lombarda che dopo che l'anno scorso non si è disputata è tornata sui campi e si è disputata infatti la sesta giornata questo weekend che ha visto il Gavirate pareggiare internamente contro il Minerva la Doverese perdere in casa 4-2 con il Vittuone mentre la Football León cade 4-0 con il Lumezzane il Monte Rosso Tris al Mantova il Sedriano batte 2-0 l'Oratore 2-B mentre il Cesano Boscone e il Crema pareggiano a Rete Bianchi mentre hanno riposato Tabiago e tre team Brescia vediamo anche la classifica che è piena di asterischi a causa proprio delle due squadre che rimangono a riposo ogni weekend in questo momento c'è il Monte Rosso che le ha giocate tutte in testa con 15 punti seguono Lumezzane e Doverese a 13 chiude infine la classifica chiudono anzi Tabiago e Mantua ancora a 0 punti vediamo anche il programma della settima giornata di eccellenza con l'Oratore 2-B che affronterà il Mantua il Gavirate con il Monte Rosso tra i team Brescia ospiterà il Doverese si affronteranno poi Crema Sedriano Vittuone Cesano Boscone il Tabiago con la Football Leon mentre riposeranno il Minerva e il Lumezzane torno da te Rebeck questa volta per sempre abbiamo visto tutte le nostre grafiche e tutto quello che è successo questo weekend io ti voglio chiedere un po' uno sguardo al futuro perché sta arrivando il professionismo tu comunque sei giovanissima classe 2000 il professionismo tu lo vedi come una cosa che puoi usare per farlo diventare il tuo lavoro questo mondo o lo vedi o ti sembra ancora lontano secondo me c'è ancora tanta strada da fare tanto lavoro da fare però stiamo costruendo le vasi giuste per per creare un futuro migliore per noi ragazze che vogliamo fare questo come lavoro tra l'altro quest'anno si sta dando comunque tanta visibilità al calcio femminile in Serie A se ne è andato sì Sky però è arrivata la set che fa vedere una gara in chiaro ogni weekend Eleven Sports fa vedere tutta la Serie B e in più una partita di Serie C per ora ne hanno già trasmessa qualcuna del girone B se non sbaglio quanto è importante comunque che insieme al professionismo ci sia anche così tanta visibilità ad accompagnare il movimento è molto importante abbiamo bisogno anche di supporto di altre persone che oltre a noi ci credono e ci supportano e secondo te che ruolo possono avere magari i social network che ormai stanno nelle mani di tutti noi nei nostri telefonini secondo te quanto possono anche loro influenzare la crescita del movimento moltissimo possono farci possono permetterci di far scoprire a persone che magari neanche sanno che esiste il calcio femminile e che esista a questi livelli perché alla fine non siamo non siamo scarse non siamo come tante persone pensano possiamo fare la differenza anche noi valiamo tanto anche noi come ragazzi quindi possono fare la differenza possiamo farci conoscere grazie anche ai social assolutamente secondo te qual è il social più adatto ti faccio un po' questa domanda io li uso un po' secondo te qual è quello migliore magari per arrivare alle persone è tosta potrebbe essere instagram che adesso è quello che è un po' più un po' più virale diciamo esatto ma anche youtube per cioè per trasmettere le partite in modo tale che le persone possono realmente vedere le tue partite quando giochi e seguirti sempre ma ci sono un po' di tifosi a vedere il Realmeda e gli spalti sono abbastanza pieni sì sì poi noi trasmettiamo anche in diretta le partite sul canale youtube della società quindi lo diciamo a chi ci sta guardando nel caso qualcuno fosse interessato si è incuriosito un po' a vedere anche il Realmeda giocare può farlo sul canale youtube della squadra dove so bene anch'io che ci sono tutte le partite ogni weekend quindi si può seguire le pantere giusto perché il vostro simbolo sono le pantere della squadra sì e senti invece abbiamo parlato di un po' futuro del movimento ma il tuo tu hai qualche sogno personale di squadra è solo la promozione in B o hai anche altre ambizioni ovviamente sarebbe bello un giorno poter giocare almeno in serie B non punterei troppo in alto rimarrei abbastanza con i piedi per terra però almeno giocare in serie B mi piacerebbe tanto è un mio sogno e vediamo vediamo se si realizzerà noi ovviamente te l'auguriamo con tutto il cuore nel caso nel caso dovesse succedere tornerai qui da noi proprio per raccontare nel caso la promozione o l'arrivo però non diciamo nulla per scaramanzia però sei già invitata nel caso e senti uscendo un po' dal campo di gioco dal rettangolo voglio chiederti un po' di raccontarci la tua squadra com'è oltre alle partite magari se hai un aneddoto curioso divertente magari un rito che avete prima di scendere in campo no in realtà non abbiamo nessun nessun rito nessun aneddoto diciamo che siamo una squadra molto unita quindi ci vediamo spesso anche al di fuori del campo i sabati siamo una squadra molto unita per questo prima ho citato tanto il gruppo perché davvero non ho mai trovato un gruppo così solido durante gli anni in cui ho giocato qualche aneddoto non saprei non so se magari siete quella classica squadra che comunque si fa sempre scherzi spogliatoio oppure assolutamente sì del tipo che quando qualcuno se ne va fuori dallo spogliatoio per andare non lo so in infermeria o fuori sul campo prendiamo tutte le sue cose quindi tutti i vestiti le scarpe la borsa e le scombiniamo tutte le spostiamo in modo tale che non trovano più le scarpe i vestiti e invece riguardo le trasferte ce n'è una invece che ti rimasta nel cuore perché poi tra l'altro ti faccio anche questa domanda è cambiato il format della serie C tu li hai visti un po' tutti i format stando nel Realmeda quest'anno 16 squadre e quindi sono anche più trasferte da fare anche più lontane sì secondo me è un bene questa cosa perché facendo trasferte anche più lunghe si sta più tempo con la squadra si vive meglio anche tutto il clima pre partita post partita e lo si vive tutto insieme ad esempio siamo andate in trasferta a Caprera ed è stato un bel momento che abbiamo vissuto tutti insieme tra l'altro com'è andata Caprera siete riuscite a farvi anche un bagno oltre la partita o no toccate e fuga toccate e fuga è stata bene e senti per chiudere un po' la nostra intervista rimanendo sempre fuori dal campo tu oltre a essere una calciatrice sei anche una studentessa una lavoratrice come occupi il tuo tempo libero hai altri hobby passioni studio sono sto studiando biotecnologie mediche sono al terzo anno quindi tra poco ho finito e principalmente questo quando non studio mi alleno quindi sempre libri e pallone esatto allora Rebecca io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi anche con poco preavviso perché l'abbiamo organizzato quest'oggi molto velocemente quindi grazie davvero e in questo punto anche in bocca al lupo per la sfida con lo Spezia perché non sarà assolutamente facile grazie grazie mille speriamo bene e adesso torniamo a noi io saluto tutti quelli che ci hanno seguito li ringrazio per essere stati qui con noi vi ricordo che domani alle 17.30 giocheranno le azzurre di Milena Bertolini contro la Lituania per la quarta giornata del giorno di qualificazione per i mondiali del 2023 che si discuteranno in Australia e Nuova Zelanda e oltre a voi ovviamente ringrazio anche la nostra fantastica regia che ci supporta e sopporta ogni stagione ogni puntata ogni settimana appuntamento ovviamente anche settimana prossima sempre alle ore 18.30 con cartellino per commentare anche le partite dell'Inter contro la Juventus e del Milan a Firenze con la Fiorentina adesso vi lascio al nostro telegiornale dal vivo come ogni settimana buonasera a tutti